Hola ragazzi, ben ritrovati a tutti da Marcello, è vero, è un po' di tempo che non faccio video non registro video per il canale ma voglio dire ci sta nel periodo estivo anche perché il mio obiettivo non è quello di registrare video a manetta giusto per metterli su internet ma quello di creare contenuti che possano essere di valore e di aiuto a te che segui e che guardi questo video io sono Marcello Bugnola, amministratore di Quantirica Algorithmic Trading e ideatore della piattaforma Ticker Explorer e con questo video voglio puntualizzare un po' quello che è successo nella giornata di ieri nello specifico sul mercato europeo per riagganciarmi a tutto il filone di video che puoi trovare all'interno del canale in tema di rischio e di conoscenza degli strumenti su cui vai a fare trading e su cui si lavora perché è essenziale, conoscere la tipologia di strumento su cui si va a operare è la regola numero uno prendo ad esempio il DAX, il DAX nella giornata di ieri ha fatto un range, non voglio dire eccezionale ma veramente molto molto ampio, nello specifico tradotto i numeri perché poi sai si fa presto a parlare di TIC di percentuale meno 4, meno 5 ma spesso e volentieri è un po' insipido tradotto i numeri sono 16.450 euro di range massimo minimo ora tu capisci che un rischio del genere o comunque un movimento del genere o anche un'opportunità perché voglio dire non lo puoi guardare sempre alla prospettiva del rischio però un movimento del genere presuppone una conoscenza attenta, precisa e approfondita naturalmente dello strumento che vai a trattare il DAX è uno strumento che personalmente è uscito dal paniere nel senso io non lo seguo con grande attenzione soprattutto in questo momento proprio perché negli ultimi mesi ha fatto questo movimento di congestione, di lateralità pur avendo degli strappi in 3D anche interessanti, però è uno strumento che io ho sempre reputato e toccato in punta di piedi con i guanti bianchi è uno strumento pericoloso, va conosciuto, non ti sto dicendo di non fare il DAX anzi per l'amore del cielo è un ottimo strumento però devi conoscerlo e la giornata ieri ne è stata l'esempio questo per ritornare un po' facendo un passo indietro a quello che è l'argomento iniziale di questo video cioè conoscere il rischio, conoscere gli strumenti, conoscere quello che si sta trattando perché il trading online non è una moda, è un mestiere e onestamente mettersi in un mercato che non si conosce bene è pericoloso a questo punto ti dirai come faccio a conoscere bene questo mercato la prima cosa da fare, ed è quella che ti suggerisco, continua a fare un'analisi puntuale, costante, precisa e metodica seguendo sempre lo stesso filone di studio io applico i volumi, lo faccio con Ticker Explorer che è un po' la mia creatura però fallo quotidianamente, costantemente perché solamente così riesci a capire le finezze, i movimenti i livelli che vengono più o meno rispettati e via dicendo personalmente chi mi segue sul gruppo di analisi dei volumi che è un gruppo chiuso e riservato agli utenti di Ticker Explorer sa perfettamente e conosce perfettamente quella che è la dinamica che mi ha portato ieri a specificare dei livelli ribassisti lontani dal mercato, eccetera, eccetera, eccetera con dei livelli rispettati in maniera ben precisa questo da dove nasce? oltre che dall'esperienza di tanti anni nasce anche dall'idea di strutturare un modello di analisi che sia adatto a tutti e che funzioni in maniera semplice non c'è bisogno di fare analisi iper complesse di andare a vedere chissà quali indicatori, algoritmi o robe strane poi chiaro che ognuno ha il suo però dalla prospettiva dei volumi io ti dico quello che guardo effettivamente sono poche cose essenziali e soprattutto ben rappresentate e ben rappresentate con precisione quindi per conoscere bene lo strumento la prima cosa che devi fare è fare un'analisi puntuale, attenta e precisissima su quello che è il sottostante adesso ti rimando un attimo allo schermo e come per magia passiamo di là e guardiamo che cosa è successo effettivamente nel mercato e voilà, direttamente dalla telecamera il mio schermo il mio schermo di analisi sul mercato europeo questa qui è l'impostazione e il setup che utilizzo per gli strumenti europei ogni mattina su cui vado a identificare tutti i livelli, le opportunità e naturalmente cerco di identificare quelli che possono essere i livelli di prezzo su cui il mercato naturalmente può andare ad appoggiarsi per fornire poi situazioni operative come vedi seguo pochi strumenti non seguo 3000 tipi di strumenti ma mi focalizzo e cerco di approfondire e di approfondire la mia conoscenza e competenza sempre sugli stessi strumenti che naturalmente sono quelli che utilizzo per il mio trading quotidiano anche se come hai capito il DAX è uno di quegli strumenti che sto pian pianino mettendo da parte per ovvie motivazioni e quella di ieri è un esempio lampante e palese allora partiamo proprio dal concetto dell'analisi giornaliere di quello che è l'andamento del DAX nella giornata di ieri da cui si evince questo forte sell-off di mercato che parliamoci chiaro, era un po' nell'aria, tutto quello che vuoi però fa parte di quelle giornate che se non si conosce bene quelle che sono le potenzialità o comunque i rischi che si corrono quando si tratta questo tipo di strumenti insomma può diventare effettivamente pericoloso ne ha fatti specie come puoi vedere il range di ieri è stato di 16.450 euro ancora una volta rimarco l'idea di ragionare in euro o in valuta per intenderci togliendo completamente il concetto di TIC di range in percentuale e tutte queste cosine qui e utilizzo il concetto di massimo-minimo quindi come massimo range giornaliero assimilandolo un po' al concetto di rischio cioè quanto rischio o opportunità dipende da che parte lo guardi mi offre uno strumento nello specifico uno strumento che offre 16.450 euro di opportunità o di rischio per me è uno strumento che va trattato e conosciuto solo ed esclusivamente se si ha una competenza approfondita e soprattutto delle basi solide e fortissime perché? perché va da sé che nella stragrande maggioranza dei casi si tende o meglio i trader medi ma tutti poi peraltro tendiamo a capitalizzare in fretta i guadagni e a lasciar correre le perdite e in una giornata come ieri per quanto il controllo di un trader possa essere rigido e meccanico insomma in una giornata come quella di ieri la voglia di lavorare magari sul recupero dei minimi la voglia di cercare un rimbalzo a tutti i costi può prendere il sopravvento bene in una giornata come quella di ieri sarebbe stato assolutamente devastante quindi hai capito che la conoscenza dello strumento passa per l'analisi analisi che come vedi questo qui è il mio grafico di analisi che io pubblico ogni mattina ti faccio un esempio nella giornata di ieri che ovviamente qui vedi già disegnata ma stiamo comunque parlando di livelli che non erano ancora visibili uno dei livelli chiave che ho identificato ancora nell'analisi della mattina che ieri peraltro ho fatto in maniera approfondita e molto presto è stato il punto di concentrazione scoperto della giornata del 7 di agosto punto di concentrazione scoperto che con Ticker Explorer era posizionato in maniera puntuale e precisa 12.535 quindi capisci che quando faccio le analisi io mi segno esattamente tutti i punti tutti i livelli che possano essere obiettivo del mercato ecco questo è stato un livello che naturalmente è stato colpito e sbavato di poco mentre il minimo della giornata di ieri si è appoggiato esattamente su un nodo di volume conoscere lo strumento passa quindi inevitabilmente necessariamente per l'analisi daily o comunque di time frame superiori soluzione per cui ancora una volta prepara l'analisi giornaliera cerca di approfondire bene le potenzialità dello strumento di capirne le varie sfumature per poi poter apprezzare quello che è il concetto di rischio perché se uno strumento ti espone a 16.450 euro di rischio e non sei sufficientemente capitalizzato economicamente e mentalmente che è un'altra cosa che secondo me è molto rilevante beh a quel punto il rischio di cadere nel trappolone di voler a tutti i costi comprare un mercato o uno strumento sui minimi e cercare di entrare a tutti i costi può diventare effettivamente pericoloso bene io a questo punto ripasso alla telecamera e per la conclusione di questo video che spero ti sia piaciuto e voilà come per magia ritorniamo alla videocamera con l'obiettivo di trasmettere un po' di conoscenza, competenze e soprattutto valore aggiunto al canale quindi ti suggerisco caldamente di fare le analisi di conoscere bene nei dettagli gli strumenti su cui lavori ti ricordo che il gruppo di Quantirica e nello specifico del trading con i volumi è disponibile per tutti i sottoscrittori che utilizzano la Ticker Explorer in versione semestrale o annuale se sei interessato al trading con i volumi Ticker Explorer è la soluzione giusta e a questo punto se il video ti è piaciuto metti un bel like arrivederci al prossimo video buon proseguimento, buon lavoro e soprattutto buon trading da Marcello